Flavio Albanese racconta in prima persona la vera storia di Pinocchio sulle note della celebre musica che Fioranzo Carpi scrisse per lo sceneggiato televisivo diretto da Luigi Comencini. Arriva al teatro Abeliano di Bari domenica 20 febbraio lo spettacolo tratto dal classico di Carlo Collodi, le avventure di Pinocchio raccontate da lui medesimo. Tra prose e filastrocche, racconti, canzoni, ari e recitativi, lo spettacolo ripercorre le principali vicende che hanno portato un semplice ciocco di legno a diventare un bambino. Lo spettacolo è stato realizzato dalla Compagnia del Sole, i personaggi appaiono e scompaiono sulla scena, volte impersonati dallo stesso albanese, altre volte evocati attraverso la magia e gli espedienti del teatro di varietà. In questa storia per grandi e piccini emerge chiaro il tema fondante e caro a Collodi. L'essere umano è un burattino manipolabile fino a quando non conquista la consapevolezza della sua storia e della sua capacità di cambiarla emancipandosi da burattinai di ogni sorta. Pinocchio è la storia più famosa del mondo perché insegna ai bambini, in modo divertente e allegorico, che le sue avventure sono uno specchio per tutti noi, grandi e piccini. Pinocchio all'inizio è ingenuo ma poi crescerà e comprenderà che l'essenza della vita è nei suoi sentimenti più sinceri e in quelli per la fatina e per il babbo Geppetto. Una storia che a distanza di tempo non perde mai il suo immenso significato.